Buon pomeriggio a tutti quanti, siamo al ceto sportivo di Formello e c'è in scena la conferenza stampa di presentazione nel match di Europa League nel match day to Lazio-Nizza. A nostro fianco il tecnico della Lazio Marco Baroni, il centrocapista Matteo Gendusi. Ringrazio fin da adesso Valerio Stigliano per la traduzione, vi ricordo che dovremo comunque effettuare la traduzione dall'italiano al francese, dal francese all'italiano per quanto riguarda le fasi di questa conferenza stampa. Nel frattempo andiamo ok per le domande. Cardone, Repubblica, prego. Buongiorno mister, che Lazio ci dobbiamo aspettare domani, che tipo di partita sarà e poi nei momenti positivi quando c'è entusiasmo credo che sia il momento migliore per lavorare anche sui difetti della squadra. Su che difetti della Lazio sta lavorando? Solo questo. Grazie. Sicuramente domani abbiamo un avversario complicato, un avversario che ha una buona squadra, una squadra che fa un buon calcio un 3-4-2-1 che spesso diventa un 3-4-3 e ci sarà da gestire una doppia ampiezza, una squadra dove occorrerà veramente una miglior Lazio. I ragazzi stanno bene, abbiamo recuperato, oggi c'è l'ultima seduta, facciamo ancora qualche valutazione ma noi lavoriamo, lavoriamo a testa bassa perché questo sappiamo che il lavoro poi ci porta a colmare ma a crescere a creare questa identità forte che vogliamo che la nostra squadra abbia. Quindi da questo punto di vista come vi ho già detto il gruppo è particolarmente partecipativo e quindi anche se in queste settimane un po' serrate abbiamo pochi allenamenti ma sono allenamenti intensi dal punto di vista anche attentivo dove cerchiamo di mettere a frutto tutto quello che possiamo. Prego Valerio. Allora la prima questione è questa conferenza di Proosso avant le match oggi c'è di Nice-Lazio c'è di quel Lazio si dovete s'attendre per le match di domani. Domani on avrà un adversario molto complico, è il nostro mistero ballone che risponde, abbiamo una buona equipe davanti di noi, il giova sempre con un 3-4-2-1 che diventa un 3-4-3, quindi bisogna la migliore Lazio sicuramente. C'è una equipe che va bene, i giocatori hanno bene recuperato e noi lavoriamo molto per fare il lavoro che ciò che ciò che ciò che vogliamo a grandire e a creare una forte identità, è quello che vogliamo per la nostra equipe. non abbiamo mai avuto molto di attrazione, ma abbiamo lavorato intensamente. Proseguiamo Ceri, prego. Buonasera Ministro, le volevo chiedere, nel giro di pochi giorni, poche settimane si è passati da un certo scetticismo o meglio diffidenza nei confronti della Lazio per i tanti giocatori nuovi, per il nuovo progetto, a una certa euforia determinata dai risultati positivi ma ancora di più dal gioco che la squadra sta esprimendo. Le volevo chiedere se questo è un po' la preoccupa, nel senso che magari poi l'eccessivo entusiasmo può anche essere pericoloso o se comunque invece è contento di poter lavorare in questo modo. E poi una seconda domanda, se posso, immagino che la formazione di domani ricalcherà un pochino quella di giovedì scorso, nel senso che ci saranno molti cambi, se si aspetta un ulteriore salto di qualità da quei giocatori che hanno giocato di meno e che ad Hamburgo però sono andati molto bene, potrei fare dei nomi ma intanto sappiamo bene di chi si tratta. Allora no, l'entusiasmo. L'entusiasmo è uno degli aspetti più importanti che una squadra deve avere, la gioia, la voglia di venire al campo. L'equilibrio, è chiaro che l'equilibrio è fondamentale, noi dobbiamo essere sempre capire che questi momenti, come a me piace un po' sentire il dolore quando c'è la sconfitta e anche non voglio dire trasferirla a squadra, però questa è anche una squadra che sente e quindi questo poi ti aiuta anche a dare il meglio. Nello stesso tempo dobbiamo essere bravi ed equilibriati a gestire anche i momenti in cui vengono i risultati. Ma quello che è la cosa più importante è il lavoro e l'aspetto prestativo, si parte sempre da lì. Questi sono i due aspetti che poi ti portano a raggiungere gli obiettivi che vogliamo. I cambi, un giorno vediamo se riusciamo a coniugare per non cambiare, per non chiamare, cambio. Io ho dei ragazzi veramente che ci vogliono dare, che lavorano forte, in questo momento la mia attenzione, l'attenzione del mio staff è proprio anche rivolta a gestire anche queste risorse, perché veramente queste partite così ravvicinate, viaggi, tutte queste situazioni ti portano, ti espongono anche proprio a uno stress sia fisico ma più che altro anche dal punto di vista proprio cognitivo, mentale, che spesso è quello più difficile da gestire. Qualcosa cambieremo perché appunto dobbiamo anche andare alla ricerca di queste energie e sulle risposte non ho dubbio perché li vedo allenare, quindi so che chi va in campo oltre a godere la fiducia mia ma anche dei compagni farà, darà tutto quello che ha. Grazie. 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 entusiasmo che è sicuramente molto importante, è la gioia, la gioia di venire s'entrappare qui e sul terreno, ma è soprattutto fondamentale tenere un equilibrio, è importante sentire, per esempio, la dolore in la difetta, io le sento, io l'essore di la trasferire al giù, è ciò che ci ci ha dato il più dopo nel terreno, ma la cosa più importante è sempre il lavoro per raggiungere gli obiettivi che cercano. Per rapporto ai remplaçanti, bisogna arrêter di ringraziare gli obiettivi che giochino meno, bisogna gestire bene le risorse, perché ci sarà molto stress, molto giù, a livello fisico e psicologico, sicuramente ci saranno qualcosa in questo match, ma non ho dubbio sulla risposta dei giocatori che voi ringraziare. Rindone. Mister, buonasera, a proposito dei cambiamenti di formazione, pensa di far giocare solo uno tra Dia e Castellanos e poi un approfondimento sui mediani, visto che c'è qui Gendunzi, sono stati due giocatori che hanno percorso più chilometri a Torino, nell'idea sua dei mediani che ci ha sempre descritto, questo credo che sia un'inquadratura precisa, tra l'altro Gendunzi segna, Rovella recupera il pallone che poi lancia il contropiede del secondo gol, è questo che devono fare i suoi mediani? Sì, sì, credo, ecco mi piace, qualche volta vi hanno usato questo termine tutto campista, ma questo è l'aspetto che secondo me nella mobilità di squadra è chiaro che i centrocampisti che hanno anche un raggio d'azione maggiore e devono essere molto bravi ed equilibrati nelle due fasi, sia nel possesso che anche nella fase non possesso, sono chiaramente due ruoli dove abbiamo dei giocatori intanto molto bravi ma anche che si spendono per la squadra, è chiaro poi che vanno anche sostenuti, questa è una cosa che vi ho già detto ma la squadra lo sta facendo sempre meglio e da questo punto di vista insomma ecco sono convinto ora al di là di chi andrà in campo, anche lì guarderò un attimino un po' il minutaggio delle ultime partite, però sicuramente sarà un centrocampo all'altezza della partita perché come ho detto prima sarà una partita molto molto difficile. quindi par rapporto, il parlait del milio di terra in fatto, la question c'était Ganduzzi il rivela il milio di terra che abbiamo avuto a Torino, ils hanno marchato, ils hanno couruto molti chilometri, c'è questa la vostra idea di gioco per il milio di terra? Il ha detto, sì, il dice sempre tutto terra, c'è dei giocatori di tutto terra, la mobilità dell'equipe demande un equilibrio al milio, nelle due fasi dei giocatori e quindi abbiamo dei giocatori molto forti, ma devono essere anche soutenuti da tutta l'equipe. Dopo, chi va giocare al milio? Beh, io vorrei guardare soprattutto le minuti che hanno giocato nei ultimi match e io voglio prendere le mie decisioni. La Cagnina. Buonasera, Bruno. Volevo chiedere, ultimamente la Lazio ha evidenziato crescita e qualità, però prende sempre molti gols, e domani c'è il Nizza che è una squadra che ben saprà segna molto e pericolosa in zona gol. Volevo capire che in questa prima fase della stagione ha preso qualche provvedimento in tal senso per equilibrare di più la funzione tattica. Grazie. No, ma noi dobbiamo lavorare su questo, ma non per i gol subiti, che poi ora non voglio stare a fare un'analisi, però ci sono anche dei dati. La squadra è comunque quarta per minor tiri subiti nello specchio della porta ed è anche quarta come miglior pressing di squadra. Quindi questi dati mi danno anche la dimensione che la squadra sta lavorando sempre di più in una miglior fase difensiva. È chiaro che noi vogliamo far gol, vogliamo attaccare, vogliamo tirare in porta. Questo ve l'ho detto fino alla prima mia conferenza e non a caso in questo momento la squadra comunque è terza come miglior numero di reti. Quindi io credo che all'interno di questo la squadra in questo momento ha anche un buon equilibrio. Effettivamente abbiamo sei partite e dieci gol, però molti di questi gol hanno anche una natura che secondo me poi con il tempo non prenderemo più. Grazie. 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 Grazie a tutti. perciò che siamo il terzo del numero di buts marghi nella Serie A. Quindi dobbiamo trovare un buon equilibrio, è vero che nei primi sei match abbiamo incassato 10 buts, ma ci sono certi buts che sicuramente non saranno più incassati. Siamo lavorando su questo. Poi ci chiamo di qua, Rocca. Salve Mister. Lei ha sempre parlato bene della squadra, dei suoi ragazzi, del lavoro che avete fatto fino a questo momento, però una cosa è lavorare e un'altra cosa è riuscire. Le chiedo se anche lei è sorpreso dal rendimento della sua squadra, se si aspettava questo livello in così poche partite. Poi le volevo fare un'altra domanda su un singolo. No, perché io dal primo giorno, prima di partire proprio qui abbiamo fatto una riunione con la squadra, dove ho fatto vedere i video, alcuni dati, e ho detto che io allenavo una squadra forte. e quindi dal primo giorno abbiamo lavorato su questo. Avevo la fortuna di allenare una squadra forte. Quindi, detto questo, magari rischio di ripetermi, ma lo faccio molto volentieri, la partecipazione della squadra con cui ho trovato dal primo giorno di lavoro, questo ci permette poi di portare sul campo il lavoro durante la settimana. Però, ripeto, ora in questo momento, ecco, non voglio veramente... Io sono contento, tutto, però dobbiamo lavorare. Siamo appena partiti, c'è tanto lavoro da mettere dentro, e credetemi, la mia testa, ma ogni volta che lavoriamo con la squadra pensiamo veramente solo e unicamente al lavoro e al miglioramento, perché è l'unica strada che ci può permettere di raggiungere obiettivi. E l'altra cosa che le volevo chiedere è su Besino, perché si parla poco di questo ragazzo. Le chiedo se per la sua squadra avere comunque la possibilità di schierare un giocatore del genere con la sua esperienza può anche rappresentare un lusso, cioè poter mandare in campo un ragazzo del genere che sai che quando mandi in campo comunque risponderà sempre presente. Fondamentale, fondamentale sotto tutti gli aspetti. Intanto in questo momento ha una condizione fisica straripante, sta benissimo, lui lo sa, lo percepisce. Io so di allenare poi dei ragazzi che oltre a entrare nei momenti più importanti della partita, perché io spesso sarò ripetitivo, ma chi va dentro va dentro nel momento più importante della partita e basta vedere gli ultimi minuti di Torino come il risultato è cambiato. Quindi da questo punto di vista Besino dà un grandissimo apporto ma anche durante la settimana nel lavoro ma come tanti altri ragazzi e quindi sono d'accordo. è una risorsa fondamentale per noi. che ci ha ammigliore durante la settimana e durante il nostro lavoro. La seconda questione, c'è per rapporto a Besino e se l'esperienza è un luxe per la partita del Lazio. Il mistero ha detto che è un giocatore fondamentale e ha in più una condizione fisica super e lo sa, e entra sempre nei momenti più importanti del match. Lui, come gli altri, per esempio a Torino, abbiamo visto come il match è cambiato proprio nelle ultime minuti. Ringraziamo il tecnico Marco Baroni. In questo caso ho domande per Matteo Ghendusi. Per motivi di tempo vi chiedo cortesemente di fare una domanda a testa. I tempi UEFA sono ristretti. Per quanto riguarda le domande di qua abbiamo Iustulin, poi i Faccini e passiamo di qua a Catena. Prego. Ciao Matteo, buon pomeriggio. Ti voglio chiedere di due tue compagni di squadra, due i tuoi ex anche compagni di squadra. Il primo è quanto sei sorpreso da quest'ambientamento istantaneo di Nuno Tavares e quanto manca secondo te a Gigo per essere pronto per il suo esordio? C'è vero che ho giocato più di una settimana con Samuel Gigo e Nuno Tavares a Marseille. Come l'avevo detto prima che Nuno signale a Lazio, ho detto che sarà l'un dei migliori laterali di questo campionato. E continuo di dire perché c'è un giocatore che ha veramente molto qualità che ci apporte molto. On ha puo vedere già con 4 passi decisivi. Quindi c'è un giocatore veramente molto importante per noi e io sai che che è un giocatore che fa parte dei migliori a suo posto in Europa. Samuel Gigo aveva un piccolo problema di blessure ma è arrivato con il gruppo e c'è un giocatore che va molto fare bene perché ha la mentalità di voglio sempre che fa molto bene e non ha peur di sortire sui giocatori e ha anche molta esperienza quindi è un giocatore che va molto aiutare nelle fasi difensive e come ho detto sono due giocatori molto importanti per la Lazio e ci hanno rinforzato per avere una migliore equipe. Allora, secondo me sono due giocatori molto importanti per la Lazio e ci hanno rinforzato per rendere migliori la nostra squadra. Io ho giocato con loro più di una stagione a Marsiglia. Beh, Nuno l'avevo detto che secondo me era uno dei migliori laterali ci porta molta qualità davvero ha già fatto quattro assist e secondo me è uno dei migliori in Europa nel suo ruolo. Per quanto riguarda Gigo bene, è arrivato che non era nelle migliori condizioni fisiche era infortunato però ritornerà presto e ci farà sicuramente bene la sua esperienza il suo vigore nella fase difensiva. Di là, Facini. Ciao Matteo. Dall'arrivo del mister state segnando tanto ma ora comincia una nuova fase affrontere delle migliori difese d'Europa l'Empoli e la Juventus anche il Nizza prende pochissimi gol. Ti chiedo quanto è importante per blindare la difesa incrementare i numeri del possesso palla tenere di più la palla che a Torino vi è riuscito molto bene nel primo tempo meno nel secondo e poi dato che la Lazio ha giocato tantissime edizioni di questa competizione e soprattutto è stata inserita in prima fascia sentite come dovere il fatto di arrivare tra le prime otto di questa competizione. Grazie. partiamo dalla parte che riguarda dove possiamo arrivare in Europa League possiamo andare lontano è una competizione difficile io l'ho giocata diverse volte sono arrivato anche in finale con l'Arsenal però abbiamo una buona squadra un ottimo staff io ho fiducia in loro e se applichiamo le indicazioni del mister possiamo sicuramente arrivare lontano. per quanto riguarda il Nizza che affronteremo domani io so che hanno una difesa solida poi conosco bene il loro allenatore Franches ero al centro di formazione a Lorient quando c'era anche lui ed è un allenatore che chiede alle sue squadre molta intensità ha fatto bene l'anno scorso a Lens e continua quest'anno a Nizza ma noi dobbiamo continuare a giocare come sappiamo dobbiamo concentrarci soprattutto su di noi. Catina Ciao Matteo buon pomeriggio io volevo chiederti una cosa riguardo le tue motivazioni nel senso che il Nizza è una squadra che tu hai conosciuto già al Marsiglia ma dove sei stato anche al centro di una partita molto accesa molto particolare con la tifoseria del Nizza quindi se per te questo può essere un derby nel derby non solo a livello di averli già incontrati di nazionalità ma anche se quella partita la ricordi ancora perché fu una partita veramente veramente fuori dal mondo quindi se c'è un modo per caricarti ancora di più oltre alla carica e ti darà chiaramente il mister Baroni grazie No, voilà c'è un match un po' speciale quando tutti i francesi giocano all'estranger sono sempre felice di trovare un'equipe francese ma è sicuro che il match contro Nice on va dire che è stato un match un po' speciale perché un'ancien jouore dell'Olympico di Marseille ha sempre stato un match con intensità un match molto importante anche per l'ancien club quindi oggi sono a la Lazio è stato un match come un match per l'estero trovare una squadra francese contro l'inizia è ancora più speciale in realtà perché quando ci giochiamo contro il Marsiglia è sempre un match molto intenso è molto considerato è molto importante però io oggi penso soltanto alla Lazio quindi non importa chi abbiamo davanti l'importante è concentrarci su di noi e rispettare le consegne che ci dà il mister dobbiamo essere veloci Sticozzi prego Matteo buonasera volevo chiederti vista da dentro hai la sensazione che questa Lazio sia più forte della squadra in cui hai giocato lo scorso anno? C'è un voilà un'equipe totalmente differente della saison dernière abbiamo un nuovo coach con una filosofia di gioco che è differente dai coach che avevo connu la saison dernière abbiamo due nuovi jouori quindi forsemente tutto è differente par rapport alla saison la sede quindi ci si chiama la classement che si chiama sui obiettivi ma sono molto felice di essere perché abbiamo un super coach che fa molto progressare come abbiamo visto dal primo questo la squadra è diversa la filosofia di gioco è nuova è tutto diverso giudicheremo poi dalla classifica e dagli obiettivi raggiunti ma io sono molto contento di essere qui con questo super coach esattamente quello che ha detto di progredire che ci aiuta a progredire individualmente e collettivamente io penso che abbiamo degli ottimi giocatori possiamo fare una bella stagione e ho molta speranza che riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi l'ultimo flash Castellano ciao Matteo tu sei un leader tecnico carismatico in campo si vede anche quando giochi ma il tuo obiettivo è anche quello di diventare capitano di questa Lazio un punto fermo anche con la fascia al braccio e che poi ti possa portare più avanti anche dopo l'addio di Griezmann essere un punto fermo anche nella nazionale francese grazie città per non finirare per me davvero ben po in questa squadra la squadra è una squadra che sono molto importanti per noi, con molta esperienza ma siamo tutti a parlare prima le match, dopo le match e è ciò che fa anche la forza di nostra squadra non c'è nessuno non c'è ciò che fa anche la forza dopo il primo della squadra e quindi come vi ho detto è di restare a me stesso e di poterare molto a questa squadra perché sai che posso aiutare molto questo club e c'è una domanda per la nazionale l'effetto di avere queste responsabilità può poter essere il capitale una volta che Griezmann sarà non, la più importante è di essere molto bene e poi vedremo per la selezione ma come ho detto prima di andare in selezione bisogna essere molto bene bene per me l'importante è di restare al mio posto io so dove sto in questo momento e so quello che posso fare per la squadra ed è tanto e so che devo dare sempre il meglio poi abbiamo già molti giocatori e capitani importanti che hanno esperienza l'importante è che ci parliamo molto e questo ci dà la forza non c'è nessuno che è al di sopra degli altri per quanto riguarda la nazionale è bene, io quello che voglio fare è fare bene per la mia squadra di club e poi il nazionale vedremo Chiusura, Beccarisi prego Buon pomeriggio ritorno alla partita di domenica perché forse lì abbiamo visto quello che è l'ultimo step che ti può far crescere ancora di più anche a livello internazionale quel riempire l'area di rigore che chiede tanto anche il mister è quello su cui state lavorando ed è quello l'aspetto che ti può far diventare un giocatore ancora più importante a livello internazionale grazie C'è un obiettivo che ho ho in mente di essere molto più forte nei 30 ultimi metri perché mi arrivava in un match di me ritrovare in una posizione di fare la dernière pass o di fare il dernier but e questo è qualcosa su cui io cerco di lavorare ovviamente se i miei attacchi possono marcare molto più di buti è il più importante ma è un obiettivo che ho ho in mente di marcare molto più di buti con la Lazio di essere molto più decisivo ma io so anche che il coach attende qualcosa di me e io so dove sono sul terreno non è la mia priorità di marcare ma io so che è un obiettivo in cui sto lavorando e in cui voglio essere migliore all'interno del tempo bene bene mi capita spesso di essere decisivo negli ultimi 30 metri mi succede di fare assist o fare anche gol io ci sto lavorando chiaramente l'importante è che gli attaccanti segnino di più e che la squadra segni di più però ho anche messo come obiettivo quello di essere decisivo per questa squadra anche se il coach in realtà si aspetta cose diverse da me per cui non è comunque la mia priorità grazie a voi per la presenza grazie a chi ci ha seguito in questo caso live grazie al tecnico Marco Baroni e al centrocampista della Lazio Matteo Gendusi appuntamento fra poco confermato 17 e 15 l'ingresso per quanto riguarda il fronte dell'allenamento con i primi 15 minuti aperti ai media grazie a domani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti